Una serata d'eccezione al piccolo lago di Mergozzo, otto set per altrettante etichette di moscato secco, ciascuna abbinata a una specialità dello chef bistellato Marco Sacco. E' andato in scena Escamotage, il moscato bianco di Canelli incontra la cucina d'autore, un evento partecipato promosso da Ice Verbania. Vini e piatti sono stati introdotti da produttori e chef, quindi la degustazione dell'abbinamento, un viaggio tra sapori di grande equilibrio, in parte nuovi e talora sorprendenti. Questa sera percorriamo nuove strade del vino con nuovi produttori, che non sono nuovi produttori, ma sono produttori storici di un prodotto famosissimo che è il moscato bianco di Canelli, fino a ieri vinificato solo dolce e da ormai qualche anno vinificato secco. Ma voi che un po' l'avete assaggiato, cosa ha di speciale questo moscato secco? E' questo contrasto tra un naso che ricorda il moscato, perché c'è la parte varietale, ma una bocca secca. E' particolare, assolutamente particolare, ma da quello che abbiamo potuto capire, da quello che abbiamo assaggiato, sicuramente un futuro. Di recente costituzione l'Associazione Aroma di un Territorio per la promozione di questo vino. In realtà è un prodotto che esiste già da sempre, però con la nostra associazione dal 2019, inizia ad avere una sua identità, quindi un disciplinare che ne regola la produzione sia in vigna che in cantina. E' un vino estremamente versatile, quindi può accompagnare dagli antipasti al pesce, al sushi, quindi pesce crudo, può tranquillamente accompagnare i primi piatti, anche secondi piatti non troppo importanti. Chef, come ha interpretato questa serata con questo vino così nuovo, portato da questi ragazzi così giovani? Perché li abbiamo visti, sono tutti sotto i 40 anni. Vabbè, è fantastico. Già il pensiero che questi giovani si mettono con un moscato, lo stravolgono, tolgono gli zuccheri, lo fanno diventare secco, è affascinantissimo. Quindi queste cose, per me, è il mio pane quotidiano, mi piace proprio. E allora abbiamo abbinato questi otto vini, questi otto piatti, che probabilmente hanno fatto un po' la storia, soprattutto di quest'anno. La cosa divertente è che diventa questo modo di esprimere, quindi di accogliere il pubblico, in un contesto completamente diverso, nuovo, perché i cuochi sono là che ti raccontano i loro piatti e questi ragazzi giovani che fanno questo vino ti raccontano il loro vino. E quindi poi diventa questa interazione tra il pubblico e noi che lavoriamo e quindi diventa molto culturale.